Ciao ragazzi, ciao a tutti, un saluto da Calcio Toro, bentornati in questo nuovo video YouTube. Il turno infrasettimanale di Serie A, lo scontro tra Torino e Verona, finisce con il risultato di 1-1, ci si spartisce il punto, un bel pareggio, importantissimo per quanto riguarda la classifica, in ottica classifica, considerando anche le sconfitte delle rivali nella corsa a salvezza. Parlo del Genua, che perde 2-1 in trasferta contro il Sassuolo, e parlo del Parma e anche del Crotone, che hanno perso malamente rispettivamente contro Atalanta e Roma. Adesso vedremo cosa farà lo Spezia alle 18, io penso che il Napoli comunque riuscirà a portarsi a casa i tre punti, ma anche qualora i Liguri dovessero strappare un pareggio, saremmo comunque in zona salvezza. Questa è molto importante per il morale, soprattutto in vista dello scontro di sabato contro il Milan, decimato da infortuni e Covid. Tantissimi assenti, anche nomi importanti, pesanti, di conseguenza bisognerà andare a Milano per cercare comunque di portare a casa un risultato positivo. Non dico la vittoria, sarei contento anche qualora dovessimo ottenere il pareggio. In ogni caso continua la striscia positiva dei risultati del Toro, tanti pareggi, una sola vittoria a dirla tutta, ma quantomeno non perdiamo e soprattutto questa volta la partita l'abbiamo rimontata noi, un po' casualmente mi verrebbe da dire. Prima di cominciare con l'analisi vera e propria, perché ci sono diverse considerazioni da fare, soprattutto negative, ma c'è anche qualcosa di positivo da dire, come ad esempio il risultato, tanto ormai la prestazione chi la guarda più, ecco. La si guardava all'inizio, quando si pensava che il Toro potesse giocare con un 4-3-1-2, possesso palla, tutto rapido, veloce, insomma rispettare i dogmi di Marco Giampaolo, ma adesso giochiamo con un 3-5-2 di Mazzariana a memoria e le partite ricordano veramente quelle sotto la guida del tecnico toscano. Prima di cominciare con l'analisi, dicevo, vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere mi piace al video, se alla fine sarà di vostro gradimento. Detto questo, c'è un problema di fondo, c'è un problema di fondo, non abbiamo un play e soprattutto non sappiamo costruire gioco e fare un giropalla decente, non dico neanche ottimale, ma decente, ragazzi. Giocatori veramente molto scarsi tecnicamente i nostri, il centrocampo veramente penoso. Rincon, io ragazzi non me la voglio prendere in ogni video con Rincon, però un'analisi oggettiva su Rincon va fatta, sia per quanto riguarda il primo tempo che per quanto riguarda il secondo. Thomas Rincon è un guerriero, è un giocatore che è stato fondamentale per la crescita del Toro in questi ultimi anni ed è un po' anche l'emblema della decrescita che abbiamo avuto, del calo vertiginoso dalla seconda parte della scorsa stagione in poi. Adesso basta. È un giocatore finito, che tatticamente non ha più nulla da dare al Torino. Lo si è visto nei minuti conclusivi del match soprattutto, ma anche quando il Toro doveva recuperare il risultato o quando invece il Toro doveva sfruttare dei momenti di inerzia. Sbaglia la giocata, è un giocatore somaro, tatticamente parlando. Ci mette grinta, ma lui è un mediano, è un incontrista. Non può mettersi a impostare. Ogni volta mi veniva la latte alle ginocchia, ogni volta che aveva palla Rincon, palla presa, tentativo di dribbling, passaggino all'indietro, non tenta mai la giocata, anche perché se la tentasse non andrebbe sicuramente a buon fine, i contropiedi è lento nel servire palla ai compagni, non ha visione di gioco, sbaglia la scelta, ad esempio mi viene in mente quando c'era completamente solo Belotti o Goyac in alto e lui ha deciso invece di tirare ai limiti dell'area di rigore su un contropiede molto appetitoso, effettivamente un'occasione molto ghiotta, ma fosse solo quello ragazzi. Per il resto, per me non ha più nulla da dire alla causa e mi stupisce che sul tacquino della società non ci sia effettivamente il nome di un regista e che ancora non si stia trattando il nome di un regista. Certo, Baselli adesso è disponibile, può essere utilizzato da Marco Giampaolo, però sappiamo benissimo l'integrità fisica qual è di Daniele Baselli, non sappiamo come ha recuperato o se ha recuperato del tutto e soprattutto il ruolo del regista è un mero esperimento. Lui ovviamente nasce come una mezzala, peraltro centrocampo che è corposo e rimpolpato, insomma siamo pieni in qualsiasi ruolo, ci manca semplicemente il regista naturale, vero e proprio, e poi di sbolognare qualche giocatore, ecco esubero come ad esempio, esubero qualche giocatore che attualmente gioca veramente poco, ha un minutaggio misero come ad esempio Meite. Però io dico, va preso un play basso, concentriamoci su questo ruolo. Per il resto è stata una partita speculare, insomma Torino e Verona hanno giocato a specchio, si sono copiati negli atteggiamenti, nel modulo, sì qualche piccola differenza qua e là, ma diciamo che entrambi hanno cercato un po' di bloccare la manovra offensiva della squadra avversaria, si sono basate entrambe sul possesso palla, anzi il Verona si è basata sul possesso palla perché se lo poteva permettere, dato che il Verona ha avuto il pallino del gioco per tutti i 90 minuti, il Torino invece è andato avanti di lanci lunghi. Peraltro oggi neanche Belotti mi è piaciuto francamente, certo il metro di giudizio dell'arbitro effettivamente era molto diverso rispetto ad altri scontri, non sono stati fischiati diversi falli al Gallo secondo me, però alla fine è stato coerente con il suo metro di giudizio, e i giocatori se non riescono a rendersi conto di questo, pazienza, mi viene in mente un'azione al novantesimo dove si ingò, sì certo c'era un fallo su si ingò, ma l'arbitro non ha fischiato, e tutti si sono messi a protestare invece di seguire lo sviluppo di essa con Di Carmine che poi è arrivato dentro l'area di rigore ed è arrivato addirittura al tiro murato fortunatamente. Sono dettagli veramente importanti, bisogna rimanere concentrati e continuare per 90 minuti. Detto ciò, com'è arrivato l'1-0? L'1-0 è arrivato con una giocata da fenomeno, con un gol pazzesco al volo alla Van Basten di Di Marco, si ingò, si perde totalmente la marcatura, Di Marco completamente solo la trova una perla, si inventa una magia, Sirigu non può fare nulla, tira il volo sul secondo palo di sinistro, perfetto. Ragazzi, questa giocata, questo tipo di giocata, noi non ce l'abbiamo, non ce l'avremo mai, l'ho sottolineato in altri video, ma è importante dirlo anche qua. Le conclusioni da fuori, i tiri al volo, queste non sono delle opportunità e delle armi sfruttabili da questo toro, ecco. Bisogna giocarsi alla sua i calci piazzati, sugli sviluppi da corner, insomma, questo è e questo sarà fino alla fine della stagione. A meno che sul mercato di gennaio non possa arrivare qualche giocatore interessante, anche meglio di qua me, francamente, su cui farò un video a parte, poi vi dirò la mia. Non sono totalmente contrario al suo arrivo, ma c'è qualche appunto da fare. Per il resto che cos'altro si può dire, ragazzi? Verdi è entrato bene, francamente, Verdi è entrato bene, non mi sento di crocifiggerlo ancora una volta, ecco. Ha perso qualche pallone, un giocatore sconclusionato, lo sappiamo, un po' imbranato, diciamo. Però in generale, a parte qualche corner battuto un po' maluccio, se devo essere onesto, bellissimo il suo sinistro, destra, adesso non mi ricordo, dentro l'area di rigore, tagliato sul secondo palo, che poi ha portato al pareggio, alla carambola, che ha portato al gol di Bremer. Rapace in area di rigore, devo dire, quindi complimenti a Gleison. Per il resto che commenti dobbiamo fare? Che cos'altro bisogna commentare di questa partita? Beh, considerando la difesa, per me i centrali hanno fatto una partita attenta, non abbiamo rischiato quasi nulla per tutti i 90 minuti. Murru, mentre per quanto riguarda le fasce, devo dire che Singho mi è sembrato un po' in calo rispetto alla prestazione di Parma, dove per molti è stato l'MDP, per me è stato l'MDP di quella partita, però per quanto riguarda questo match, io l'ho visto un po' in calo, ecco. Disattento nelle marcature, deve tentare un po' di più la giocata, secondo me, visto che è l'unico giocatore che alla fine ha un po' il guizzo, ha un po' il piede, può correre, può prendere gli avversari di fisico, di intensità, e invece spesso ha tentato al retropassaggio, ha tentato affatto al retropassaggio, si è fermato, non ha sfruttato eventuali inserimenti dei compagni. Insomma, mi ha un po' deluso, mentre Murru è totalmente impalpabile dall'altra parte. Quando è entrato Ansaldi si è visto l'aumento vertiginoso di qualità, effettivamente sulla fascia sinistra, ottimo dribblatore, ottimo crossatore, Cristian Ansaldi, certo perché è un po' sotto il punto di vista atletico, sia dal punto di vista dell'integrità fisica, rapidità, fisico proprio, tenuta fisica in campo, però si è visto proprio il salto. È una cosa totalmente diversa, pensare che sulla fascia sinistra abbiamo Rodriguez, Murru e Ansaldi sempre rotto, beh, fa abbastanza riflettere sull'operato societario, ecco. Per il resto che cos'altro c'è da dire? Beh, c'è da parlare dell'attacco. Ripeto, Bellotti a me non è piaciuto, è stato completamente annullato, secondo me. Ha avuto veramente pochissime possibilità, sfruttate male, secondo me. Quando gioca male il Gallo va detto, ragazzi, bisogna criticarlo onestamente. Goyac, una partita totalmente anonima, ecco. Tra l'altro non ho ancora parlato delle due mezziali, ovvero Lukic e Linetti, ma adesso ci arriviamo. Goyac, ripeto, partita anonima, che certifica comunque la necessità di prendersi un partner d'attacco per il Gallo. Serve una seconda punta. Quamede, Frel, non lo so, ci sono diversi nomi e poi ci farò un video a parte dicendovi anche l'identikit che piacerebbe a me, ecco, del giocatore ideale. Però devo essere onesto, non mi è piaciuto moltissimo Goyac, ecco. L'ho visto molto bloccato, anche a causa del pressing asfissiante da parte dei giocatori del Verona, ecco. A cui va dato atto di aver fatto una buona partita sotto questo punto di vista. Preparata molto bene tatticamente. E alla fine il Verona ha giocato come il Torino avrebbe dovuto fare in questo contesto. È una squadra molto più quadrata, molto più preparata di noi e infatti hanno fatto loro la partita. E hanno tenuto le redini nel campo per tutti i 90 minuti, ripeto. Per il resto le mezziali, allora Lukic mi è piaciuto, ha fatto una partita di quantità, ha avuto qualche scatto interessante, qualche palla servita al centro, ha recuperato qualche pallone e dirla tutta no. Diciamo che ha sventato qualche occasione pericolosa creata dal Verona, ecco. Perché poi il Torino non ha recuperato molti palloni. Non è che il pressing del Torino sia stato tanto efficace. Tutti i palloni recuperati e le azioni di ripartenza sono causati da errori tecnici del Verona, che comunque nella gestione palla è imparagonabile ai Granata, ripeto. Linetti è impalpabile, è un giocatore impalpabile allo stesso livello di Murru. Nelle pagelle in Bernani io gli avrei dato un 5,5 come voto, non le ho fatte perché non avevo voglia, francamente. Però è un giocatore veramente impalpabile, Linetti. Cioè, non riesco ancora a decifrarlo, quindi mi serve ancora un po' di tempo. Viene poco servito, lo vedo poco in campo, si fa poco vedere sia in fase offensiva che in fase difensiva. Secondo me manca un po' il suo apporto, ci aspettavamo un po' di più da questo giocatore. Per il resto, ultimo appunto, poi chiudo subito. Guardo ovviamente con fiducia al futuro e spero di poter andare via da Milano sabato con qualche punto in saccoccia. Però ultimo appunto i cambi, ragazzi. E soprattutto il periodo dopo il gol dell'1-0 del Verona. Veramente una fase di gara confusa, dove il Torino ha perso tantissimi palloni, ha rischiato, ha sbagliato scelte tattiche. Siamo una squadra scarsa tecnicamente. E sì, scopro l'acqua calda, lo so, però oggi me ne sono accorto ancora di più. Abbiamo forse il centrocampo più scarso della Serie A, mi verrebbe da dire. Sono giocatori che non sono in grado di dialogare tra di loro. E basta un pressing un po' studiato per poter bloccare qualsiasi possibilità di ripartenza. Ancora una volta, le nostre occasioni a gol arrivano da calci d'angolo, sviluppi da calcio d'angolo, calcio piazzato. Insomma, noi sappiamo giocare semplicemente così. Giochiamo di ribattuta, giochiamo di rimessa, di lanci lunghi. È un Toro che effettivamente di Giampaolo ha ben poco, ma non può averne. Perché, come posso dire, geneticamente la squadra, scusate non mi veniva sul termine, geneticamente la squadra non è adatta a questo tipo di calcio. Dobbiamo farcene una ragione. Bonazzoli è entrato male, secondo me, ha perso moltissimi palloni. Almeno, non lo so, entrano in modo confuso questi giocatori. È tutto raffazzonato, è tutto un purpurrì di, non lo so, confusionario, ecco. Di azioni fatte tanto per cercare di recuperare, di portare il risultato dalla nostra. Per il resto, nient'altro, ragazzi. Segre è invalutabile. Chiaramente perché ha giocato veramente troppo poco. Verdi è entrato bene, ripeto. Però, ecco, anche dai cambi si vede comunque che ciò che è a disposizione di Marco Giampaolo non è molto. Ora speriamo che, vista considerando anche la non-convocazione di Eder e Zazza, la società si muova per quanto riguarda acquisti nella zona, nel reparto offensivo, nella seconda punta. È regista, chiaramente. Per il resto, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa partita. se vi è piaciuto il Toro oppure no. Per me è uno snimi. Va bene il risultato, non guardo molto alla prestazione in questo momento, non serve. Video post partita è un po' lungo, ma c'era tanto di cui parlare. Ciao ragazzi, sempre Forza Toro. Ci vediamo al prossimo video, il video del giorno dopo probabilmente. Ciao ragazzi.